Ciao e benvenuto in questo tutorial di Filmora 12 In particolare questo è un tutorial completo di Filmora 12 Quindi andrò a riassumere tutte le funzioni che ci sono In particolare fino alla versione 12.4 Quindi considerano anche tutti gli altri mini aggiornamenti che ci sono stati da quando è uscita Filmora 12 E dato che lo scorso video e lo scorso tutorial completo che ho fatto su Filmora 12 Ha ricevuto comunque un bel po' di visualizzazioni E adesso è a circa 11.000 Voglio provare a ricrearlo al meglio appunto spiegandovi tutte le funzioni che ci sono In generale potete considerarlo un tutorial per principianti su Filmora Ma logicamente se questo è proprio il vostro primo video editor Vi consiglio prima di informarvi un po' perché magari potrebbe capitare che durante il tutorial dopo è scontato qualcosa Che magari alcune persone non conoscono perché hanno appena iniziato in generale a montare video O comunque potete anche rivedervi alcune parti del tutorial per capire meglio Naturalmente potete installare Filmora 12 dal link che vi lascio in descrizione E in particolare vi lascio anche un link che vi porta a un'altra pagina del sito di Filmora In cui troverete tutte le versioni di questo programma In particolare scegliete tra tutti i programmi di Wondershare Scegliete tra Windows e Mac E potete selezionare la versione Questo perché ultimamente molte persone mi stanno dicendo che non riescono ad installare le ultime versioni che escono Quindi comunque gli aggiornamenti meno importanti Questo perché alcune volte la funzione di Filmora che dovrebbe appunto mandare la notifica sui nuovi aggiornamenti non funziona Però da questo sito le trovate tutte e le potete appunto installare senza perdere nessuna informazione Quindi viene disinstallata la vecchia versione e si installa quella nuova automaticamente Detto questo possiamo iniziare Allora appena aperta Filmora troverete questa schermata Ok che è la home di Filmora da cui potete naturalmente creare il vostro progetto Ci sono molte modalità e adesso le andiamo a vedere tutte quante Naturalmente da qui potete creare un progetto e sotto avete praticamente molte opzioni predefinite di alcune funzioni molto utili di Filmora Che non sempre sono presenti quando create poi il vostro progetto Allora trovate prima di tutto la modalità istantanea che vi permette di creare comunque video in modo molto veloce Naturalmente in modo semplice perché avete comunque dei modelli predefiniti Naturalmente di tutte le varie tipologie in base al video che dovete creare Quindi se è un vlog, se è un video informativo o se dovete creare comunque uno spot pubblicitario per un prodotto Quindi di base avete dei modelli potete per esempio aprirne uno mettiamo banalmente questo E una volta aperto praticamente potete importare tutti i vostri file e in automatico con queste praticamente opzioni predefinite andrà a creare un video Naturalmente non vi posso mostrare poi tutte le funzioni in particolare di questa funzione Perché il tutorial verrebbe lungo veramente diverse ore C'è il registratore dello schermo, in realtà come molti programmi come OBS Studio che comunque possono registrare lo schermo Avrete praticamente questa opzione appunto Grazie alla quale potete registrare in generale il vostro schermo col microfono Magari per mostrare anche la vostra timeline di filmora per fare un tutorial volendo Vi lo consiglio Naturalmente è tutto molto semplificato rispetto ad alcuni programmi ma magari per fare qualcosa molto velocemente può essere utile Poi abbiamo la e-copywriting o AI pazzesco in inglese Allora comunque si tratta di una cosa veramente incredibile E praticamente di base ha la stessa idea di chat GPT Per chi non lo sapesse nelle ultime versioni è stato anche aggiornato Potete comunque chiedergli di darvi per esempio delle idee per dei video Di crearvi un copione Un po' come teoricamente può fare chat GPT che in realtà poi può fare molte più cose Però questa è come se fosse una parte estrapolata da chat GPT Quindi per esempio se voglio chiedergli una sceneggiatura video Posso chiedergli magari di crearmi un copione per un cortometraggio di fantascienza in modo molto semplice Quindi banalmente io ho un massimo di parole 200 parole Posso generare questa cosa Vediamo cosa mi risponderà lui Man mano stai lavorando quindi non si genera tutto in una volta Come potete vedere man mano adesso sta aumentando Aspetto che finisca Ok come potete vedere ha creato un breve copione Che può essere utile non so una specie di idea per creare comunque un cortometraggio interessante Comunque ecco può dare molte idee in questo ambito Allora poi troviamo la presentazione avatar Che è una funzione aggiunta da poco Allora importo la finestra da questa parte E senza andare molto nel dettaglio Questa è una funzione che potete sperimentare voi Sinceramente mi sembra molto semplice perché Per creare praticamente delle presentazioni animate In particolare con un avatar Che potete calibrare tramite la fotocamera Quindi praticamente si anima in base a come muovete la bocca Il naso, le mani eccetera E naturalmente potete aggiungere testo Potete aggiungere naturalmente una lavagna Per spiegare degli argomenti E può essere molto utile Non proprio nell'ambito di editing video Ma magari per fare delle presentazioni Quindi senza salvare il progetto Passiamo dopo alla taglierina istantanea Che praticamente dovrebbe essere una funzione Per editare comunque per parti O tagliare molto velocemente alcune parti di video Allora banalmente Registrazione totalmente casuale Fatta da me Per provare la nuova fotocamera che ho comprato Che si in realtà sto anche usando in questo momento In realtà serve per tagliare molto velocemente Praticamente delle parti della clip Quindi si può essere utile Ma in realtà lo potete fare anche su Filmora Volendo E infine l'ultima cosa molto interessante Che troviamo che poi non c'è praticamente Nei progetti di Filmora È il rilevamento del silenzio Allora importando banalmente questa clip Allora sempre questa O magari sempre importando magari una registrazione Questa scusate in realtà è una funzione Che trovate anche all'interno del progetto Che è molto utile Per chi non la conoscesse Praticamente voi potete regolare questi parametri E in automatico vi taglierà Tutte le parti di silenzio Quindi in realtà se io faccio adesso Rincomincia banalmente Mi dovrebbe tagliare tutte le parti In cui smetto di parlare In questo caso in realtà è una registrazione Fatta con la fotocamera Quindi non viene molto bene Poi qui io dovrei prima collegare L'audio del microfono che utilizzo E tagliare tutte le parti Però può essere molto utile Come potete notare Vi taglia le parti teoricamente di silenzio Quindi comunque l'audio in entrata È più basso E quindi vuol dire che non state parlando Inoltre uscendo da questa funzione Sappiate che per curiosità Trovate il progetto cloud Quindi praticamente potete caricare Non tanti i vostri file Ma in realtà i vostri progetti Che alla fine poi non pesano tanto E di base avete già un giga gratuito Quando in generale installate Filmora 12 In particolare vedete che qui ci sono alcuni progetti Io posso fare carica su cloud Praticamente In modo da averlo sempre anche offline E in teoria se poi vado qua Me lo sta caricando Ecco banalmente la funzione è questa Ma continuiamo creando un nuovo progetto In particolare potete modificare Le proporzioni del progetto Fin da subito Naturalmente adesso in 16 noni E potete modificarle O adesso oppure comunque dopo in seguito Quando state editando il video Allora penso che l'interfaccia di filmora Sia abbastanza intuitiva Anche se comunque ci sono molte sezioni E imparare ad utilizzarle tutte Non è neanche così semplice In particolare iniziamo praticamente In generale da tutta questa interfaccia Qua in alto trovate praticamente Questa casella Dove potete cambiare la modalità Quindi trovate la modalità Però è definito in questo modo Quindi timeline in generale E naturalmente il visualizzatore dei video E qui praticamente le impostazioni del progetto Trovate poi organizza Si diciamo cambia In questo caso Poi naturalmente tutte queste parti Le potete spostare a vostro piacere In base a quello che dovete fare Se magari avete tante tracce sulla timeline per esempio Poi trovate la modalità linea temporale Quindi diciamo che in generale si lascia spazio Alla linea temporale La modalità video breve Quindi in generale per montare un tiktok Uno short Può essere molto utile Perché qui naturalmente c'è il formato in 9 sedicesimi Poi trovate la modalità classico In questo modo Che è quella classica che c'è sempre stata in generale Su filmora E la modalità doppio Che praticamente Adesso magari non la utilizzo Perché ho il doppio monitor Perché serve proprio per questa funzione Quando avete il doppio monitor Potete mettere questa casella In un monitor E praticamente la timeline in un altro Quindi volendo potrei anche provarci Però in realtà voi poi L'altra parte non la vedete Perché avendo il doppio monitor Registro in una parte Nell'altra no Però in realtà funziona per questo Può essere molto utile Per editare video In modo abbastanza professionale Poi naturalmente potrei in teoria Metterla qui O magari ricambiare modalità E andare in classico E quindi ritornate come prima Abbiamo poi qui naturalmente I file multimediali Quindi potete importare i file Una cartella al vostro computer Importare dalla fotocamera Comunque collegata al computer Importare con lo strumento di taglierina istantanea Che vi ho mostrato prima Baralmente Quindi prima tagliate una parte di una clip Per iniziare a modificarla Trovate poi l'immagine AI Che è un'altra funzione Dell'intelligenza artificiale Che è stata aggiunta su filmora Allora ragazzi Per ora non me lo carica Magari inserirò una parte del tutorial In questo caso dovrebbe funzionare Un qualcosa del genere L'ho anche mostrato in diversi tutorial Che vi lascio nelle schede Ma in realtà era un problema Solo temporaneo Infatti mostrandovela in questo modo Quindi aprendo l'immagine AI Vi mostro come funziona Allora qui potete comunque creare La vostra descrizione Con un massimo di 800 caratteri Potete scegliere le proporzioni E lo stile dell'immagine Per esempio io potrei scegliere Futuristico E potrei chiedergli di descrivere Magari appunto una città futuristica Per dire O magari un'astronave Ho creato una descrizione Molto fantasiosa Quindi un'astronave colorata Che viaggia nello spazio E lancia dei missili Ad altre astronavi nemiche Praticamente io premo su Inizia a creare Inizierà naturalmente a caricare E comunque in pochi secondi Dovreste ottenere la vostra immagine E quindi ecco Questa dovrebbe essere In teoria un'astronave No Infatti questo programma Sbaglia molte volte Di solito funziona meglio Se fate la descrizione in inglese In questo caso Ha funzionato molto bene Quindi definitivamente Fate la descrizione in inglese Abbiamo naturalmente La parte di registrazione Quindi registrate dalla webcam Del vostro computer O dalla fotocamera collegata Registrare lo schermo del pc Come vi ho detto prima E registrare la voce fuori campo Che può essere molto utile Quando editate un video Per magari doppiare una parte Naturalmente qui ci sono Praticamente i file Che teoricamente potete importare Quindi banalmente Io potrei prendere Queste registrazioni di OBS Qui ci sono poi i media condivisi Che sono praticamente I file che vi ritrovate In ogni progetto Quindi banalmente Uno utilizza tante canzoni E effetti sonori Io li importo tutti qui E praticamente ce li ho In ogni progetto Quindi banalmente Io qui ho importato Alcune immagini e video Che mi potrebbero servire Ma a mano le aggiungo Quando edito ogni volta Alcuni effetti sonori Canzoni Comunque altri file Che utilizzo E potete naturalmente Qui aggiungere altre cartelle C'è lo spazio Sul cloud Come vi ho detto Potete caricare Un vostro progetto E i livelli di regolazione Che in generale Servono per Applicare Tutti dei vari effetti Fare un color grading Direttamente su quel livello Quindi banalmente Se io importassi Questa clip Banalmente della Torre Eiffel Posso andare nel livello di regolazione Aggiungerlo E da qui Fare per esempio Un color grading Posso aggiungerci Degli effetti E posso naturalmente Applicarlo a tutti i livelli Che comunque Gli stanno sotto Quindi banalmente Potrei anche Aggiungergli un loot Qualcosa del genere E diventa così Ecco Può essere molto utile Dopo troviamo Lo stock media Dove avete Praticamente In generale Pezzels Delle GF De immagini Queste cose Che possono servire Magari come meme Pizza buy E un splash Che dovrebbe essere Stimile a questi due In generale Da qui trovate Immagini Video stock Anche ad alta risoluzione E appunto Sì Queste cose Per poterli magari Utilizzare Nei vostri video In un documentario In realtà Poi questi sono Siti Che trovate Naturalmente Se li andate a cercare E questo è praticamente Un collegamento A questi siti Credo che sia proprio Una collaborazione Che avrà fatto Filmora Poi qui trovate Praticamente Alcuni template Colori Che potete utilizzare Come sfondo E naturalmente Il vostro elenco Quindi di base I preferiti E comunque Le immagini E i video Che avete scaricato E che utilizzate Banalmente Troviamo poi La sezione dell'audio Naturalmente E l'enco personale Sappiatelo che In generale Nei titoli In transizioni Su Filmora È la parte Dove trovate I preferiti Che magari Sono gli audio Gli effetti Che utilizzate di più Quelli che avete scaricato E magari Altri file Che avete importato Naturalmente Qui trovate Diverse canzoni Che potete utilizzare Ne vengono aggiunte Sempre tantissime Anche se Io personalmente Consiglio Di magari Abbonarsi a siti Come Epidemic Sound Artlist Ce ne sono moltissimi Dove magari Trovate qualcosa Di più professionale E naturalmente Qui avete Invece degli effetti Sonori Che questi Devo dire Sono fatti Molto bene Alcune volte Ne ho utilizzati Alcuni E come potete vedere Ce ne sono Di tantissime Tipologie E poi Filmstock Che di solito Trovate praticamente In tutte le sezioni Per chi non lo sapesse Filmstock È praticamente Un'estensione Di Filmora In cui potete trovare Immagini Video stock Effetti Extra Transizioni Extra In generale Praticamente Tutti effetti Speciali Extra Una marea di cose Per cui serve Un abbonamento Quindi in ogni caso Se volete abbonarvi Anche a Filmstock Vi posso lasciare Il link in descrizione E potete provare Comunque Trovate molti pacchetti In generale Sia se vi abbonate Oppure li potete Acquistare Singolarmente Banalmente E poi ce ne sono Alcuni anche Gratuiti Volendo Passiamo poi Ai titoli Naturalmente Classico elenco Personale Abbiamo tutte le tipologie Di titoli Tendenze Di solito Sono praticamente Quelli che magari O hanno appena aggiunto O sono in più Utilizzati E ne avete Signorantissimi Come titoli Sottotitoli I titoli 3D Che potete utilizzare Questi sono fatti Veramente molto bene Quindi come potete vedere Tutta questa Testure Appunto Oltre a tutti questi titoli Trovate sempre Quelli di Filmstock Io ne ho alcuni Extra Che ho scaricato Alcuni pacchetti Sono a pagamento E devo dire Che sono fatti Molto bene Poi naturalmente Troviamo Le transizioni Abbiamo tutto L'elenco personale Con i download E i preferiti E anche qui Ce ne sono Moltissime Che potete utilizzare Transizioni glitch Transizioni in generale Magari di risolvenza Di movimento Che zoomano E poi si spostano Naturalmente magari Transizioni di fumo Transizioni di fuoco Moltissime animazioni diverse E sempre qui Trovate naturalmente Filmstock Con le altre transizioni Che avete scaricato da lì Passiamo poi agli effetti Qui ci sono Un bel po' di sezioni In particolare Qui di solito Trovate i consigliati Perché poi magari Ne aggiungono di nuove Quindi vi aggiornano Quando ne sono stati aggiunti Di nuovi Comunque di effetti Trovate poi Proprio gli effetti video Qui Come per esempio Le ipotrette Molto utili Per ritagliare Comunque forme umane Comunque effetti di glitch Effetti per esempio Di sfocatura Trovate i diversi filtri Che ci sono Che possono anche essere Lute Per esempio Altri effetti Che potete utilizzare Che di solito Sono effetti di luce Gli effetti audio Che non sono effetti sonori Ma sono magari Degli effetti Praticamente grafici Che potete utilizzare Quando magari Create una canzone Non lo so Quando c'è una canzone Ci sono particolari Effetti sonori Poi ci sono I new blue effects E i boris effects Sono questi effetti Più avanzati Anch'essi a pagamento Nel caso vi lascio L'abbonamento Anche per questi effetti E sono veramente Grandissimi Io li utilizzo Alcune volte Sono molto avanzati Infatti potete modificare Molte molte più opzioni Adesso prendendone uno In modo totalmente casuale Senza applicarlo Però come potete vedere Ci sono molte più opzioni Di un effetto normale E naturalmente Troviamo sempre Filmstock Passando poi agli adesivi Che prima venivano Chiamati elementi Alcuni utilizzabili Anche come tipo Effetti speciali Comunque per magari Fumo Fuoco E cose simili E anche qui Potete trovare Quelli di filmstock Io ne ho scaricati Molti Comunque magari Laser Esplosioni Altre esplosioni Veramente Alcune volte Sono utili E sono anche Molto realistici Infine troviamo I modelli Praticamente Abbiamo naturalmente Il classico elenco Personale Abbiamo diversi modelli Che trovate Che in generale Sono praticamente Dei modelli Utilizzabili Per poi Andarli a Personalizzare Quindi creare Il proprio video Se magari Vado a trascinare Questo In automatico Viene scaricato E qui si creeranno Diverse tracce Dato che naturalmente È formato da Più livelli Di immagini Effetti sonori Titoli Eccetera Ok quindi Come potete notare Qui c'è Questo modello C'è già Una canzone Modificando Altezza della traccia Posso comunque Vedere Come sono fatte C'è praticamente Questa immagine Praticamente Che hanno creato Con la maschera Si trova anche qui Un titolo Qui avranno creato Una serie di animazioni E qui lo potete Personalizzare Con le vostre immagini Quindi può essere Molto utile E naturalmente Trovate poi Lo schermo diviso Ma gli schermi divisi Molto semplici Sarebbero questi Quindi banalmente Ne vado a prendere Uno E qui Praticamente potete Trascinare Dei file E in automatico Verranno divisi Quindi se io trascino Anche banalmente Questo Che mi è stato In automatico Scaricato Uno va qui Uno va qui L'altro va Qui banalmente Potete andare a regolare Tutti i vari parametri E ci sono appunto Qui tutte le varie Impostazioni avanzate Anche per regolare Il colore E tutto quanto Questa modalità Comunque potete anche Poi sperimentarla A voi Ma spiegate tutte Queste funzioni Ricreiamo Un nuovo progetto Per poi spiegare Le funzioni Che naturalmente Si utilizzano Quando si monta Un vero e proprio video Allora banalmente Io potrei importare Un file Magari preso Dalle immagini Per esempio Ci potrebbe stare Importo in particolare Un file creato Con il mio drone Lo potrei trascinare Per esempio E banalmente Vi mostro Una cosa Che molto spesso Succede Se io vado a Praticamente Modificare Le impostazioni Del progetto Quindi mettiamo Che io le metto Anche non so In 4 terzi Quando lo vado Importare Qui mi chiederà Se voglio Praticamente Adattare Le impostazioni Del progetto Al file multimediale Che in questo caso Ha registrato In 2.7k A questi fps Oppure Se mantengo Le impostazioni Del progetto Questa cosa Vi capita sempre Quindi qui Potete scegliere Banalmente Vi mostro In generale Come accedere Ai parametri Della clip E banalmente Per accedere A questi parametri Vi basta premere Due volte Su questa traccia Quindi qui trovate Diverse funzioni Troverete la sezione video La sezione colore E quella della velocità E qui naturalmente Ci sono poi Delle sottosezioni Come potete vedere Ogni volta che vi spostate Nella sezione base Naturalmente potete Trasformare Di base A 100 Quindi si vede per intero Io volendo potrei fare così Aspettare qualche secondo Banalmente Fare in questo modo Adesso non so Poi che senso abbia In questo caso Però può essere magari Molto utile In particolare In dei video di intrattenimento Quindi da così Fa un qualcosa del genere Poi naturalmente Si può fare in modo Più professionale Prima più veloce Poi più lento Come potete vedere Qui si creano Proprio questi piccoli rombi Che sono appunto I keyframe I frame chiave Dove viene cambiata La dimensione E la posizione Trovate praticamente poi La parte per ruotarla Per specchiarla La modalità di fusione Magari qui non si può notare Ma naturalmente Se vado a trascinare Un'immagine nello sfondo Un'immagine come Volendo anche questa Quindi appunto Qui modificate anche L'opacità Qui trovate poi L'ombra Che potete aggiungere Che in questo caso Non si nota Ma se praticamente La rimpicciolite Per esempio così Esatto Mettiamo che io la posiziono Qua banalmente Se io vado a modificare L'ombra E ne cambio il colore Come potete vedere Si crea Qui potete naturalmente Modificare come molti programmi La distanza La sfocatura Dell'ombra E anche l'opacità E infine trovate il miglioramento automatico Che non serve sempre Però in generale Dovrebbe già di base Migliorare un po' I colori Della clip Anche se io Vi consiglio naturalmente Di imparare a fare Una color correction Dopodiché troviamo La sezione delle maschere Quindi naturalmente Qui trovate Tutte le tipologie Di maschere Tra cui Appunto Maschera rettangolare Circolare Monolinea A stella Banalmente Potete importarne voi Quindi In generale Dei file Che poi serviranno Appunto Per creare Una maschera E in particolare La maschera Personalizzabile Quindi quella Poligonale Quindi appunto Io potrei disegnare Una maschera Qui E posso anche Invertire la maschera Posso spostarla E anche qui trovate Diversi parametri Ci sono poi Gli strumenti AI Che in generale Possono essere Il ritaglio intelligente Possono essere Comunque Il cosiddetto Gris screen O chiave cromatica Che serve poi Il chroma key Quindi banalmente Qua non serve a molto Ma se io Vado a eliminare Queste tracce Potrei prenderne Un'altra Banalmente Qui troviamo In generale Una traccia Col gris screen Ne troviamo Un'altra qua Praticamente Qui Andando gli strumenti AI Potrei attivare Volendo il chroma key Adesso comunque Non è regolato Molto bene Potrei Modificare Tutti questi parametri Sono pochi Ma in realtà Poi dipende Tutto dal caso Dovete semplicemente Vedere Se magari Si vedono Delle leggeri sfumature O se si vede Un po' di verde Quindi in base a questo Li andate a regolare E in particolare Attivando il canale Alpha Potete vedere Cosa realmente Viene eliminato E cosa no Il nero È ciò che viene eliminato Quindi lo sfondo verde Il bianco È ciò che praticamente Tiene Andando a regolare Tutti questi parametri Dovete ottenere Un risultato Abbastanza uniforme Disattivando la chiave cromatica Abbiamo la ipotrette Che qui non serve Molto in realtà Ma serve Quando trovate Un soggetto umano Quindi banalmente Potrei fare qualcosa Del genere Potrei prendere Questa traccia Dove Non so come Ma ho in generale Un umano E praticamente Attivando la ipotrette Come potete vedere Riconosce Il fatto che ci sia Un umano Che comunque La forma sia simile E qui potete regolare Alcuni parametri Disattivando questa Abbiamo il ritaglio Intelligente Che è simile All'ipotrette Ma lo potete Modificare Lo potete utilizzare In molti più casi Praticamente Avviandolo Potete selezionare Il soggetto Lo farà alcune volte In automatico Alcune volte Dovete praticamente Voi con questo pennello Andarlo tutto A modificare Quindi in questo modo E praticamente Andrà renderizzato Tutto Lo sfondo Andrà eliminato E verrà tenuta Solo questa parte Che viene Evidenziata In blu In questo caso Infine Trovate il monitoraggio Di movimento Trovate moltissimi programmi È molto semplice Si attiva Seguite il vostro soggetto E molto semplicemente Potete naturalmente Aggiungere O comunque Collegare Un'altra traccia La stabilizzazione Che sinceramente Non ho quasi mai utilizzato Ma può essere utile Magari Se fate delle riprese All'aperto Mentre si corre O qualcosa del genere Infine La correzione Dell'obiettivo Raramente La utilizzo Ma viene Utilizzata Forse più Per magari Le action cam Quando si ha Magari Un'inquadratura Troppo grandangolare E la si vuole regolare Quindi funziona Per questo Eliminando Nuovamente Queste tracce Ne posso importare Un'altra Come questa E andiamo a vedere Naturalmente Le animazioni Che di solito Sono quelle Preimpostate Magari In entrata Qualcosa del genere E anche Queste Naturalmente Sfruttano I keyframe Io vi consiglio Di base Di imparare A utilizzare bene Questi keyframe Che potete utilizzare Dappertutto Per fare Delle animazioni Dopo passiamo Al colore Quindi naturalmente Qui potete fare Color correction Color grading Ci sono moltissimi Loot Quindi di base Qui trovate Già dei preset Alcuni Sono naturalmente Già preimpostati In filmora Che potete utilizzare Il bianco e nero Magari più caldo Più freddo Trovate poi Loot Ci sono diversi Loot Che potete applicare Magari ispirati Anche a dei film Questo sarebbe Quello di Harry Potter Banalmente E qui trovate Tutti i parametri Di colore Di luce C'è anche il parametro Regola Che in realtà È stato aggiunto Ma non è poi così utile Perché banalmente Se lo diminuite È come se aumentasse Un po' la sfocatura E invece se le aumentate È come se Praticamente aumenta La nitidezza In teoria Tutto viene mostrato Più nel dettaglio Dopodiché Trovate l'HSL Dove potete modificare In generale La tonalità La saturazione E l'alluminanza Di un singolo colore Qui troviamo Una specie di giallo arancione Non so se lo riconosce Ma più o meno È simile Quindi come potete vedere Rigolandolo Magari facendo anche così Io lo sto modificando Ma sto modificando Solo questo colore E può essere molto utile Per esempio Per creare degli effetti Del genere Banalmente Dove cambia Solo quel colore lì E non dovete andare A selezionare qualcosa Con la maschera Troviamo dopodiché Le curve Che possono essere Comunque un altro modo Per regolare i colori Naturalmente Con il canale Delle luci E delle ombre E naturalmente I tre canali RGB Infine L'ultima funzione Che è stata aggiunta È quella del settore colori Che è sempre un altro modo Per modificare i colori In realtà Considerando però Le luci I mezzi toni E le ombre Naturalmente io non sono molto esperto In questo campo E non utilizzo Ogni singolo parametro Se siete magari Gli esperti Di editing Di color grading Magari potete scrivermi Un commento Così imparo qualcosa Anche io Dato che comunque Ho iniziato da poco Passiamo infine Alla velocità Dove in generale Trovate la velocità uniforme Quindi potete aumentare La velocità del vostro video In questo modo E inoltre sappiate Che lo potete fare Anche da questo tasto Qui Con questo simbolo Per naturalmente Diminuirla In modo predefinito O aumentarla O addirittura Invertirla Cioè fate qualcosa Al contrario Quindi banalmente Ecco Se questa È per esempio La registrazione Di un'auto Se io inverto La velocità Praticamente Andrà al contrario Quindi Farà qualcosa Del genere E in teoria Tornerà indietro Come se Si togliesse Dal parcheggio Qualcosa del genere E poi lo speed ramping Che secondo me È la funzione Più interessante Che naturalmente Si tratta Di aumentare E diminuire La velocità Solo in alcuni punti Anche qui È come se Si avesse dei keyframe In questo caso Inizialmente lenta Poi qui Io potrei aumentarla Un po' Banalmente A 2x Qui potrei Invece diminuirla Dopo che è stata aumentata E quindi faccio In questo modo Ok quindi Poi praticamente È come se Aumentasse Poi diminuisce ancora E oltre a questi keyframe Che trovate già Potete aggiungerne voi Quindi io se Mi risposto qua Qui posso aggiungere Un altro keyframe Questo lo posso togliere Banalmente Facendo più E meno Naturalmente Queste sono le principali funzioni Non ve le mostrate Tutte così Nel dettaglio Perché non è possibile Ma in particolare Vi mostro alcune cose Prendendo magari Una canzone Banalmente Ecco Potete notare Che naturalmente Anche per l'audio Avete diversi parametri Che potete modificare Quindi naturalmente Ogni volta che Sempre cliccate Due volte sulla clip Avete la sezione Dell'audio Dove naturalmente Potete modificare Il volume In decibel Potete modificare Il bilanciamento Dell'audio Quando utilizzate I due canali Ci sono la dissolvenza In entrata E poi in uscita Che sarebbe Dissolvenza Il tono E ci sono alcune funzioni Teoricamente Dell'intelligenza artificiale Che dovrebbero eliminare O il rumore del vento O il sottofondo E anche qui Naturalmente Avete la velocità Uniforme O lo speed ramping Sempre con La personalizzazione O tutte le modalità Predefinite Ma naturalmente Finiamo con tutte Le funzioni di filmora Perché ce ne sono Ancora un po' Innanzitutto Sappiate che comunque Tutta la timeline Potete zoomare Potete notare Che qui trovate Le tracce audio Qui quelle video E potete naturalmente Bloccarle Quindi non potete Modificare più Quella traccia Potete naturalmente Nasconderle Quindi non si vedrà Magari più In generale Quella traccia Quindi se io Questa la nascondo Non si vede Banalmente Qui potete Praticamente Zoomare Teoricamente Sulla timeline O praticamente Facendo control In questo caso Solo su windows Intendo Potete zoomare In questo modo E queste sono Semplicemente Alcune shortcut Che potete utilizzare Naturalmente Ce ne sono molte Su filmora E in particolare Andando nella sezione File E dopo nella sezione Scorciatoie Di tastiera Troverete Tutte quelle Di ogni singola funzione Ma infine Banalmente Andiamo ad esportare Il file Quindi come funziona Dopo aver premuto Su esporta Avrete qui Dei parametri Da personalizzare Allora Banalmente Qui io posso Scrivere un titolo Posso altrimenti Selezionare la cartella Dove andrà Esportato il file Dove ci sarà Comunque L'output E poi praticamente Potete modificare Le impostazioni Quindi in generale La frequenza di bit Quindi la qualità Comunque del video Gli fps La qualità Sia per il video Sia per l'audio Naturalmente E poi ci sono anche Tutte le varie Modalità Quindi magari Per esportarlo E caricarlo Direttamente su youtube O su tiktok Per esempio Quindi naturalmente Qui dovreste Accedere prima E poi quindi Viene caricato Potete farlo Molto velocemente Così per caricarlo Su youtube Quindi ragazzi Questo è il tutorial Più completo Di filmora 12 Che io sia riuscito A fare Spero che vi sia piaciuto In qualsiasi caso Scrivetemi nei commenti Magari altri tutorial Che vorreste vedere Sfide di editing Qualunque cosa Scrivetemela O se avete domande Magari sui funzionamenti Potete sempre Scrivermelo E detto questo Ci possiamo vedere Anche in un prossimo video